Il sindaco di Mortara, Marco Facchinotti, è positivo al coronavirus. L'annuncio lo ha dato lui stesso con un video su Facebook. Nonostante abbia accusato soltanto lievi sintomi, ha spiegato, ha chiesto immediatamente di essere sottoposto al test, onde evitare di contagiare altre persone. Il sindaco continuerà comunque a lavorare e a supportare a distanza l'operatività dei colleghi di giunta. Dopo aver avuto qualche sintomo abbastanza non devastante, masificativo, con febbre, un pochino di tosse, eccetera, eccetera, alla fine ho pensato giustamente di farmi fare un tampone perché avendo questa carica e avendo attorno a me un sacco di persone mi sembrava opportuno poterlo fare. L'ho fatto e il mio tampone, ahimè, è positivo. Però grazie a Dio, cioè, mi sento bene, sto bene, respiro, non ho tosse, non ho febbre, però non posso permettermi di andare in giro a ungere le persone. Quindi, detto questo, mi dovrò fare 15 giorni di riposo, tra virgolette, di riposo forzato e coinvolgendo anche i miei che sono blindati in altre stanze e in altri luoghi e quindi però penso comunque di essere sempre tra di voi, nel senso di essere disponibili, magari un pelino meno, ma nelle vostre domande. Non so, la mia giunta cosa sceglierà di fare? Qualcuno è stato più in contatto vicino a me, altri no. Molto probabilmente il vice sindaco potrà prendere momentaneamente il mio posto, ma questo lo saprete nelle prossime ore e quindi niente, io volevo dirvi che sono comunque sempre vicino a voi, sono sempre presente, sono sempre il vostro sindaco fino a trova contraria, però mi faccio questi 15 giorni sperando che siano sufficienti i 15 giorni anche perché io mi sento dignitosamente bene, quindi spero di riuscire a far passare questi 15 giorni e così pensarli come una vacanza forzata.